E' giunto da 162 sindaci abruzzesi il segnale più forte tra i tanti che in questi giorni erano attesi dall'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini per completare la riflessione su una sua candidatura alla presidenza della regione. In un documento sottoscritto dai primi cittadini di città grandi, medie e piccole dell'Abruzzo si chiede a Legnini di prendere in mano il futuro della regione, al di là degli schiarementi politici e di mettere a disposizione della sua terra le riconosciute doti di autorevolezza, senso delle istituzioni, capacità politica e di conoscenza dei problemi e delle soluzioni riguardanti l'Abruzzo. A sottoscrivere il documento sindaci eletti da coalizioni politiche ma anche di liste civiche non direttamente riferibili al centro-sinistra. Tra le città più grandi hanno sottoscritto l'appello i sindaci di Pescara, Teramo, Vasto, Lanciano, Francavilla dove Antonio Luciani è stato il primo firmatario a Tessa, Guardia Grele, Giulianova, Roseto, Pineto, Roccarasso e Spoltore. Un esperimento quello dell'ampia partecipazione da parte delle civiche ben riuscito nella città di Teramo che ha portato la vittoria dell'attuale sindaco d'Alberto nei confronti del centro-destra che negli ultimi 15 anni ha governato la città. L'esperienza di Teramo è un'esperienza che Giovanni Legnini guarda con grande attenzione ma è un'esperienza che si è sviluppata naturalmente, quindi con grande spontaneità da parte di tutte le forze civiche e partitiche che hanno costruito la coalizione Insieme Possiamo che ha portato alla vittoria elettorale nella nostra città dopo 15 anni di amministrazione di centro-destra. È chiaro che lo spirito che ci ha animato e che mi auguro possa animare in modo reale, non artificiale anche il percorso di Giovanni Legnini sia quello di un civismo democratico che restituisca i valori del civismo agli stessi partiti politici perché credo, così come abbiamo sempre detto e dichiarato anche nella nostra campagna elettorale a Teramo che sia questo l'obiettivo da perseguire e da raggiungere in un modo ampio per dare una risposta ai cittadini che nel corso di questi anni sono stati un po' dimenticati ma sicuramente le esigenze dei cittadini non sono state poste al centro dell'azione di governo. I temi sono tanti, in primis lo dico da Teramo con grande forza la necessità, l'esigenza di mettere al centro la ricostruzione, una ricostruzione che di fatto nel corso di questi anni sul nostro cratere sismico in particolare nell'area abruzzese è rimasta ferma. Ecco questo è ritengo uno dei temi, penso che sia uno dei temi se non il tema principale fondamentale della prossima campagna elettorale e sicuramente mi auguro del prossimo governo regionale.